Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy 7 Ever Crisis perché ci sono delle piccole notizie, delle piccole novità che comunque vi vengo a riportare. Dato che ormai praticamente cerco di aggiornare la community il più possibile anche con notizie che possono sembrare stupide o comunque con notizie che possono passare in secondo piano ho deciso ovviamente di aspettare qualche giorno perché capita che delle volte le notizie vengano accumulate una dopo l'altra mentre invece se noto che in 2-3 giorni non ci sono novità importanti da dover riportare vi faccio il classico video recap di tutte le notizie in modo tale che le possiate recuperare tutte in una volta. Cominciamo dalle notizie belle. Cominciamo dalle notizie belle perché come potete notare abbiamo ufficialmente il ritorno della Frenzy Battle. Cos'è la Frenzy Battle? È praticamente la stessa meccanica che abbiamo ottenuto con Sephiroth. Quindi tutti i giocatori che avranno contribuito nel completare il combattimento Crash dell'Iron Giant avranno la possibilità di essere ricompensati con 1000 GM. Infatti a partire praticamente dal 14 per noi novembre praticamente verrà inserita la Frenzy Battle. Infatti praticamente tutte le persone che avranno completato la Crash Battle e che hanno permesso in questo caso di superare le 500 sconfitte totali del boss e avranno completato praticamente la Frenzy Battle otterranno 1000 cristalli blu. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno partecipato ovviamente alla Crash Battle e vi ricordo anche che noi organizziamo le serate proprio per permettere a tutti di poter completare le Crash Battle. Quindi questo è un ringraziamento che faccio anche alla community che mi ha permesso in un modo o nell'altro di aiutare gli altri e ovviamente ringrazio anche il ringrazio Pain che fondamentalmente è colui che ci permette di poter organizzare queste serate e che tra l'altro mi consente di poter aiutare anche altri utenti facendo completare appunto le sfide Crash quando si presentano. Quindi un grandissimo applauso a tutta la community che sto riuscendo piano piano a mettere su che sembra essere veramente affiatata e di questo non posso che esserne felice. Quindi sono molto molto contento di aver trovato questi ragazzi in generale che mi stanno dando una mano come community veramente adesso sento proprio la mano che mi aiuta della community quindi veramente grazie a tutti per partecipare quando possibile. Successivamente avremo la possibilità di completare questa battaglia dal 14 al 21 novembre e ovviamente si svolgerà nella stessa identica maniera della volta scorsa quindi entrate, effettuate il combattimento contro questo Cactuar che viene letteralmente obliterato e successivamente vi prendete queste mille gemme. È un combattimento singolo quindi non potrete ripeterlo durante tutti i giorni sarebbe stato fin troppo bello e quindi combattimento singolo avete questo periodo di tempo per riuscire a prendervi le vostre gemme e va bene così. Successivamente festeggiamo un altro traguardo quindi un'altra bella notizia perché siamo oltre 7 milioni di giocatori quindi veramente un altro bellissimo traguardo che ovviamente viene tagliato da questo gioco mobile che molti stavano aspettando che molti hanno criticato ma che in fin dei conti sta tenendo botta perché ha raggiunto i 7 milioni di download e ha raggiunto i 7 milioni di download praticamente nel giro di due mesi perché se consideriamo che il gioco è uscito a settembre e ora siamo ovviamente a novembre quindi in letteralmente due mesi abbiamo praticamente superato i 7 milioni di giocatori veramente tanta tanta roba ed ovviamente essendo Final Fantasy 7 Ever Crisis giustamente il traguardo è stato impostato a 7 milioni 7 milioni di giocatori che ci hanno permesso di ottenere praticamente altri mille cristalli blu che sono già stati praticamente consegnati a tutti quanti i giocatori quindi potrete tranquillamente aprire il vostro gift box e ricevere questi cristalli che saranno all'interno della vostra gift box fino al 14 anzi, sì, fondamentalmente fino al 14 di dicembre quindi potrete ottenerli per un mesetto ecco, saranno al freschetto per un mesetto quindi avrete la possibilità di poterli prendere quando volete adesso invece passiamo un po' alle notizie meno belle passiamo alle notizie meno belle perché ultimamente la community si sta lamentando di un qualcosa ovviamente la community è sempre alla ricerca della magagna è sempre alla ricerca di avere la possibilità di rimborso avere la possibilità di poter fare tante e tante robe che, vabbè, da un lato ci sta perché cercano sempre di prendere qualcosa però sinceramente poi dopo un po' diventa anche noioso effettivamente questo discorso comunque sia c'è un problema di fondo c'è un problema di fondo soprattutto per quanto riguarda l'arma di Tifa infatti se noi andiamo a vedere l'arma di Tifa l'arma in Featured ovvero Yama Runs Claw praticamente in base a quanto riportato da alcuni giocatori che hanno pullato e ovviamente hanno equipaggiato quest'arma a Tifa si sono resi conto che l'intelligenza artificiale praticamente non la utilizza in modo automatico e al suo posto ovviamente preferisce utilizzare le ruin quindi cosa succede? succede che quando i giocatori giocano in modalità auto praticamente schippano completamente l'utilizzo degli Yama Runs Claw e giustamente oserei anche dire perché avendo di base un 360% che diventa successivamente ora qui va bene neanche lo possiamo vedere però fondamentalmente un 360% che è vero potenzia anche l'attacco fisico però costando 4 barre ATB giustamente il gioco ragionando dice ma io perché devo consumare 4 barre ATB per fare un danno che posso comunque colmare con le ruin che mi costano solo 3 ATB quindi giustamente l'intelligenza artificiale fa un calcolo che tecnicamente tutti quanti avremmo fatto solo che questo è un attacco che comunque mi va a potenziare anche l'attacco la differenza si è notata quando ovviamente il giocatore ha riportato questa notizia quando l'arma praticamente raggiunge almeno l'overboost con una stella rosa perché l'overboost con una stella rosa praticamente permette di potenziare l'attacco in HIGH quindi raggiunge praticamente il massimo valore di potenziamento e allora il gioco riconoscendo il fatto che il potenziamento mi consente di fare più danni e soprattutto mi consente anche di diventare più forte allora la utilizza automaticamente mentre invece fino a tutti gli overboost rossi praticamente cioè l'arma praticamente tutta in overboost non viene utilizzata automaticamente dall'intelligenza artificiale e questa cosa giustamente ha mandato i giocatori un pochettino su di giri dove ha detto ah questa cosa non è accettabile mandiamo rimborso ci chiediamo rimborso perché io ho pullato l'arma e invece l'intelligenza artificiale non la utilizza eccetera eccetera la risposta in questo caso degli sviluppatori di Applibot è stato sti cazzi cioè nel senso adesso penso che appunto si sia tirata troppo la corda e di conseguenza i producer o comunque i sviluppatori del gioco stesso hanno detto che comunque non c'è niente di sbagliato secondo i calcoli che sono stati diciamo programmati dall'intelligenza artificiale e quindi non c'è motivo fondamentalmente di ricevere un rimborso o comunque di potersi lamentare di questa situazione come andrà a finire? non lo sappiamo quindi ovviamente io vi avviso che se volete pullare l'arma di Tifa per il momento c'è questo problema quindi fate attenzione prima di cioè onde evitare comunque che poi si possa dire che la colpa possa essere mia per aver fatto pullare la gente o comunque sia in generale possa essere tutto quello che volete voi però sappiate appunto che Tifa possiede questo difetto chiamiamolo così questo difetto di fabbricazione non so se verrà corretto o se ci sarà la possibilità di poter impostare una priorità magari verso questo attacco anche se non al massimo della sua potenza però per il momento la situazione è questa detto ciò ho completato anche di farmare l'arma di Lucia finalmente ho anche portato Lucia al 55 piano piano sto portando tutti i personaggi al 55 grazie alle coop quindi vi ricordo sempre gli appuntamenti con Ever Crisis per fare coop insieme ovviamente farmare e discutere di tutto ciò che riguarda il gioco trovate tutte le info sul discord della community che trovate comunque in descrizione video sul telegram della community di Ever Crisis oppure se vi va entrare nel mio telegram solo per ottenere le info di quando vado in live per avere le notifiche di quando vado in live per tutti gli abbonati invece è possibile usufruire del mio discord privato dove si avranno guide e materiali in esclusiva quindi a chi interessa avere le notizie in anteprima e in anticipo tramite abbonamento twitch o abbonamento youtube ha la possibilità di accedere e poi ovviamente come sempre mi trovate in live sul mio canale twitch quindi non siate timidi venite a trovarci venite a interagire con la community perché vi posso garantire essere per l'appunto una bella community almeno per ora quindi speriamo di mantenere sempre questo tiro detto ciò io vi ringrazio per essere stati con me spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye